Ciao a tutti Polaretti, quest'oggi voglio suonarvi una canzone che se la suonate c'è rischio di far piangere veramente tutti. Prima di suonarvela però vorrei ricordarvi che martedì prossimo, cioè martedì 1 febbraio alle ore 21, farò il mio evento virtuale in cui presenterò il mio nuovo corso di chitarra. È un corso fighissimo per i principianti, se volete registrarvi cliccate il primo link in descrizione. Siete pronti? Calmi eh, non piangete davanti allo schermo perché mi imbarazzate. Ciao a tutti Siete pronti? Calmi eh, non piangete davanti. Siete pronti? Calmi eh, non piangete davanti. Calmi eh, non piangete davanti. Calmi eh, non piangete davanti. Ciao a tutti Don't you live a thousand years, love you in a thousand more Don't you live a thousand years, love you in a thousand years Scherzo ragazzi, il tutorial arriverà in un prossimo video Però, visto che ve l'ho cantata, mi merito un like Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi